gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia aveva fatto scalpore qualche settimana fa l'aggressione a piero longo illegale di silvio berlusconi lui sceso con pistola in pugno dalla sua abitazione dove due uomini una donna lo stavano aspettando viene picchiato gli viene sottratta la pistola molti dicevano un diverbio c'è stato un diverbio ma molti hanno pensato forse lui un po arrogante avrà detto qualcosa qualcuno che si è inalberato ma le indagini della procura sull'avvocato di berlusconi portano a una accusa e una verità forse probabilmente shock per l'avvocato piero longo ricordatevi che c'era due uomini e una donna di 31 anni e proprio la donna di 31 anni è all'origine dell'aggressione da lui subita il primo ottobre scorso il nuovo fascicolo nasce da alcune testimonianze raccolte cercando la causa del pestaggio sarebbe proprio l'avvocato piero longo ad aver fatto violenza su una bambina che oggi ha 31 anni la donna che era assieme agli altri uomini durante il pestaggio il mese scorso questa scena in centro roma lui che esce con pistola loro lo prendono a calci e pugni lo disarmano e fuggono con l'arma e poi spaventati chiamano la polizia per raccontare quel che è successo e vengono arrestati mentre il noto legale finisce al pronto soccorso con il volto tumefatto e 20 giorni di prognosi un mese di indagini interrogativi testimonianze per capire di più e arriva il colpo di scena il professore ex senatore di forza italia avvocato di berlusconi famoso per aver difeso il cavaliere in differenti processi indagato per violenza sessuale nei confronti della figlia della sua ex compagna la figlia della sua ex compagna che oggi ha 31 anni ma che all'epoca dei fatti al vaglio degli inquirenti ne avrebbe avuto meno di 16 la sera del pestaggio il primo ottobre lei c'era aspettava fuori dall'abitazione di longo un palazzo del centro di padova mentre all'interno i suoi amici una commercialista il suo compagno maestro di sci avvicinavano il legale e alla fine lo picchiavano quindi alla matrice di questa aggressione è proprio questa presunta violenza che la donna ha detto di aver subito quando era adolescente ma la confidenza sarebbe solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso la confidenza raccolta dalla coppia la giovane donna iscritta alla scuola di notariato stava infatti attraversando un periodo difficile per il fatto che l'avvocato 76enne con il quale aveva in passato uno stretto legame da qualche tempo aveva deciso di mancare ogni rapporto con lei impedendole qualsiasi contatto una chiusura vissuta male per me è stato come un papà sono le sole parole che ha pronunciato da quando è esploso il caso anche davanti al pm di padova che sta seguendo l'indagine roberto d'angelo bocca cucita nel frattempo però a parlare sono stati altri ed è pertanto da queste dichiarazioni verbalizzate che la procura la procura ha aperto quasi come atto dovuto un nuovo fascicolo con la pesante accusa di violenza sessuale sulla quale potrebbe gravare la prescrizione del reato che però sembra venga esclusa non posso dire nulla dice d'angelo per l'aggressione l'avvocato lungo risulta persona offesa si è limitato a dire il procuratore di padova quindi capite il fatto potrebbe esserci stata questa violenza sessuale in quanto se una ragazza è minorenne risulta 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 appunto violenza sessuale ma avete capito la donna iscritta alla scuola di notariato stava attraversando un periodo difficile per il fatto che l'avvocato 76enne col quale aveva avuto il passato uno stretto legame da qualche tempo aveva deciso di troncare ogni rapporto con lei impedendole qualsiasi contatto una chiusura vissuta male per me è stato come un papà avete capito la storia che c'è dentro questa questa faccenda forse erano diventati amanti stretto legame si parla di violenza sessuale quando era minorenne quando lui era il fidanzato della mamma di lei poi diventa amante forse non si capisce stretto legame poi l'uno ne vuole più sapere ma insomma ci sono c'è una storia un po un po torbida in fondo i fascicoli infatti sono due e secondo scaturisce dal primo che riguarda esclusivamente l'aggressione legale in questo procedimento sono indagati in tre compresa la 31enne con l'accusa di violenza privata aggravata e rapina per via della pistola sottratta nel corso della colluttazione la coppia di fidanzati che nel frattempo ottenuto dal gip la misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora a padova con l'espresso di vieto di avvicinamento alla casa di longo i due sono poi obbligati a non uscire dalle 22 alle 7 un lockdown anticipato la protagonista della vicenda invece indagata piede libero non avendo partecipato lei si è limitata ad accompagnare gli amici sotto casa dell'avvocato ed è rimasta all'esterno c'è anche un video che gli organi inquirenti hanno hanno avuto che immortalano quello che è successo dopo un paio di squilli al campanello l'avvocato decide di scendere lo fa con la pistola regolarmente detenuta a padova è risaputo che non esce mai di casa senza il suo revolver e a maggior ragione quella sera quando capisce che la visita non è esattamente amichevole nelle immagini si vede la commercialista che gli indica l'amica fuori di casa la conosci quella gli da prima un calcio poi una botta sulla testa lui indietreggia impugna la pistola rientra loro seguono si spaventano tutti e partono due colpi fortunatamente in aria poi la lotta e la fuga beh sinceramente questo che brutta storia c'è sotto tutto un mondo e l'accusa di violenza sessuale insomma è tutta da verificare cose successe 15 anni prima come si fanno a come si fanno a verificare capite che non bisogna stare attenti con queste cose perché il discredito la diffamazione sono una delle armi per colpire le persone vedremo quello che succederà io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata siamo anche in instagram in facebook e nell'altro canale di youtube tele italia grazie e buon proseguimento di giornata a tutti quanti